Stamattina abbiamo trattato il tema dell'efficientamento energetico, in particolare degli Energy Performance Contract. Si tratta di uno strumento contrattuale piuttosto recente che le amministrazioni hanno iniziato a utilizzare. Parliamo di uno strumento che prevede sia la fornitura, che la capacità di efficientare gli edifici, che anche la parte di gestione dell'intero servizio. Ci sono alcune tematiche ancora aperte, anche perché stiamo parlando di un contesto complesso dal punto di vista della struttura contrattuale. Stamattina i nostri relatori hanno trattato questo tema cercando di offrire delle risposte. Era presente il Presidente di Enea, che ha portato anche le novità future che ci aspettano sul tema dell'efficientamento, e anche la magistratura della Corte dei Conti, che ha dato il proprio parere sul tema dal punto di vista della tutela delle pubbliche amministrazioni.